Allora, adesso ho cambiato lo standard grafico e sembra che vada un pochino meglio, eh? Allora, adesso ho cambiato lo standard grafico e sembra un pochino meglio, eh? Sì, c'è chi, via il balcone! Attiva l'overdrive! E' l'endel overdrive! Aiuto! Ne arrivano a dire il cavalcavia! Quanti sono? Negozi? Negozi? Dove? Non devo andare? Hai una missione! Dove? Troppi! Ah, questo è giglio! Ok! è proprio boom possiamo tagliare per i vicoli possiamo tagliare per i vicoli un Vespa preso Cambiamo Che casino Aiuto Che è? Mira Come al solito Oh, scarico Ah, ce n'è uno qua Un kamikaze Oh, son ferito Son ferito C Salvami Salvami A Gianni Ah, c'è uno qua Ah, c'è uno qua Ma cos'è sta roba? Soldati nemici Verso Uomo a terra Materia nemici Allora Ci va avanti qua? Ci sono Di qua Ok Arrivano A destra A destra Oh, a destra Sì No, mi ha schiacciato No Arrivano A destra A destra C'è uno qua C'è uno qua C'è uno qua E' il gioco E' il gioco Quello Scusa, scusa Tecnica Dentro Dentro La torretta è blindata Dobbiamo aggirarla Contatto Ore nove La vice a sinistra Mitchell Aggira quella tecnica Gira quella tecnica Sì Contatto Ore dodici Risposto Spostati dietro Il bastardo Sì Aiuto 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 Mi sta fottendo Ok Tecnica Dentro Dentro Mi vuole aggirarla La torretta è blindata Dobbiamo aggirarla Sì Mitchell Aggira quella tecnica Ok 2-1 Il bersaglio esce a ovest Sulla Liberty 500 metri Manca poco Di qua Arrampi Gattino Dobbiamo superare questo muro F Ok Sempre coi guanti Sì Yeah Spettacolo Attraversiamo No Ci schiacciano Attenzione L'ho traversato bene Oh no Attraversiamo Attraversiamo Attenzione Attenzione Attraversa la strada Mitchell E' un attimo Ecco Ebbe con una trambata Attraversa la strada Mitchell Sì Oh cani Aiuto 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 Ricevuto Ricevuto Profe Mitchell Vieni Dove pensi di andare Mitchell Eh scusa Scusa Mitchell Di qua Ok Dovreste vedere il furgone Lo vedo È fuoritiro Quello che va più veloce Facciamolo Spettacolo Molto da film Togli di mezzo i SUV Pronto a saltare Sì sì Ero già pronto Ai SUV Dobbiamo Gideon Non vi vediamo più Inseguiamo A sud lungo l'autostrada Recupera un trasporto Recevuto Stai vicino Eh mi devo mettere a riparo È una bella forza Mettermi a riparo qua Boh Altro autobus Ok Bellissima Questa parte qua Saltare di autobus in autobus Fortissimo Cosa c'è una pistoletta Oh oh Aiuto Spazio E via Saltiamo ancora Ah E Ho fatto la E Che lettera ho schiacciato Mi sa che non ho schiacciato La E No Ok Perfetto Spazio 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 E Perfetto Ok Grandioso Spazio Forse sono saltato male Ciao ragazzi Adesso c'è un piccolo pezzo Che non è in live Il mio audio Perché Come posso spiegarvi Praticamente Mentre registravo È venuta Della gente Su mansarda E io non riesco A commentare Live Se c'è qualcuno Alle spalle Che Soprattutto Se sono in punto Che magari Devo rifare Mille volte L'azione E sapete Che ti viene Cioè Allora Sì Mi blocco Mi blocco A commentare Il video Di un gioco Se c'è qualcuno Qua in mansarda Comunque Vabbè Dai Possiamo commentare Non live Questa piccola Parte finale Del video Come avete visto Io sono sempre Impedito In tutto Ma qua Sbagliamo i salti Non qui Quello dopo È questo punto Ecco Mi dice Salta No Eh no No È qua È qua È qua È qua Eh ma Adesso qua Come vedrete Cadrò a mucchio Di volte Perché io pensavo Di saltare male Io quindi Cercavo sempre Di spostarmi Perché non capivo Diciamo Boh Si vede che devo saltare Più lì Qua devo saltare Più avanti Devo saltare Più indietro Perché Non avevo visto Non avevo visto La lettera Che c'era Lì in fondo Quella F Che salta fuori Lì C'è stramamente Fuori E E quindi L'ho rifatta Milioni di volte Questa volta Questa parte Perché pensavo Di Proprio Che fossi io Che saltavo male Non c'era Perché C'era Da Comunque Pensi Di aver tagliato Qualche caduta Perché L'avrò rifatta Non so quante volte Burgone ore 12 Ecco Lì ho schiacciato La F Comunque Si era Proprio Il pezzettino Finale Ragazzi Qua cadde in acqua Il furgone Qua Cerchiamo di nuotare Velocemente Stagio è negato C'è veramente Le sbaglio tutte Va bene Forse anche qua Non avevo schiacciato La svelta La lettera Ecco Qua adesso Vado verso la luce Obiettivo completato E niente Io intanto Vi saluto Ragazzi Ciao ciao Das Video E ricordatevi I due contest Che sto facendo Il lavoro Non è ancora finito No cazzo Dimmi che è ancora vivo Sta calmo Respira Mi romano Respira Che cazzo Volevano Da questo tipo Non lo so Non mi interessa Ci penseranno Alla base A Gianni Soddisfatto Dell'investimento Si Avete fatto Come promesso Stasera Offro io Bene Grazie Ben fatto Michel Ok Ancora Tanti saluti Das Video Ciao 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 Come sono Nabbo